Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telebari da Roberto Maggi. Ci sono più di 200 milioni spesi dalla struttura di supporto nominata dal Presidente della Regione Michele Emiliano in cardinata presso la protezione civile tra il 2020 e il 2021. Questi sono i numeri che emergono dalla Commissione Bilancio, riunitasi questa mattina alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Puglia. Abbiamo collegato con noi il Presidente Fabiano Amati, a cui do il benvenuto e il buonasera. Grazie, grazie a voi, buonasera. Leggendo un po' i dati si inizia ad avere un po' un'idea su come sono stati spesi una parte dei soldi che sono stati utilizzati per la gestione dell'emergenza. Leggo alcune voci, in particolare per esempio 107 milioni sono legati a dispositivi di protezione, attrezzature sanitarie urgenti. Adesso si attendono ulteriori dettagli per capire anche le modalità, come sono state acquistate determinati beni che poi sono stati utilizzati per la gestione della pandemia. Sì, come ha detto lei circa 202 milioni, però per macro aggregazioni, ora tendiamo di conoscere quanto sia stato speso voce per voce e le relative modalità di affidamento. E questo ovviamente non lo faremo chissà quando, ma lo faremo sin da lunedì prossimo. Tengo a precisare che noi l'attività di controllo sulle spese della protezione civile per il Covid l'avevamo già avviata da luglio scorso, quindi ben prima che esplodesse il caso del giudiziario, del quale per noi francamente è una questione diversa. Per noi invece l'attività che stiamo svolgendo è una questione meramente amministrativa. Nell'esercizio 2020 le somme impegnate ammontano a 128 milioni e 275 mila Euro e invece per quanto riguarda il 2021 queste somme impegnate ammontano a 73 milioni e mezzo circa. Poi abbiamo saputo già i primi dati analitici di queste somme, però aspettiamo la settimana prossima per conoscere il maggiore dettaglio. Cioè in poche parole vogliamo sapere, fornitura per fornitura, quanto abbiamo speso e chi è stato l'affidatario del servizio. Dall'altra parte c'è anche l'opposizione che dopo la commissione di oggi ha parlato, le parole di Zullo, gliele leggo, da luglio avevamo chiesto rendi contazione analitica perché avevamo grandi dubbi sulla gestione, ora chiedo ad Amati di sollecitarla ulteriormente. E' vero, a luglio abbiamo fatto due riunioni, poi finimmo quella sessione chiedendo proprio il resoconto analitico, non l'abbiamo mai ricevuto, abbiamo ripreso l'argomento, adesso i dirigenti che hanno partecipato alla commissione, il dottor Imperio e il dottor Lopane, mi sembrano ben intenzionati e fortemente collaborativi e questa è una buona notizia e naturalmente l'interesse del collega Zullo è l'interesse di tutti i commissari della prima commissione perché noi abbiamo proprio la competenza a valutare la congruità della spesa e le dirò di più, con l'ufficio di presidenza abbiamo pensato che non appena terminiamo l'analisi della spesa e della protezione civile e stenderemo le nostre verifiche alle spese dell'economato che è un altro settore sotto stretta osservazione e lo faremo di settimana in settimana e daremo notizie come al solito nella massima trasparenza perché quello che è accaduto è fortemente inquietante. Ecco, proprio sul profilo della trasparenza, giusto per chiudere, le sembra che ci sia finalmente un'inversione di rotta rispetto proprio a questa richiesta di trasparenza che era stata chiesta per mesi e mesi come detto per l'appunto anche dall'opposizione ma come soprattutto è emerso anche da queste vicende giudiziarie, sta arrivando finalmente un cambio di passo in tal senso? Beh, è evidente, le strutture regionali, i dirigenti sono molto più collaborativi, quindi non scopro nulla nel dirlo, ho tenuto conto che la commissione, non l'opposizione, la commissione, maggioranza e opposizione hanno ripetutamente richiesto nei mesi scorsi il dettaglio analitico delle spese per l'emergenza, anche rappresentando alcune criticità, quindi mi pare che da questo punto di vista i consiglieri regionali stiano svolgendo pienamente la loro funzione e hanno cominciato a svolgerla sin da prima che il caso esplodesse attraverso le cronache giudiziarie, quindi mi pare che tutto quanto sia nel seguito, ovviamente l'attività che stiamo compiendo adesso ha maggiore risonanza anche nei mezzi di informazione perché è veicolata dalla vicenda giudiziaria, è ovvio perché a luglio quando abbiamo posto questi argomenti non abbiamo trovato obiettivamente la stessa risonanza, quindi diciamo che questa propensione alla trasparenza sta arrivando da parte di tutti i dirigenti ma anche da parte dei mezzi di informazione che io ringrazio perché è opportuno restituire ai cittadini la fiducia nelle istituzioni. Ovviamente noi abbiamo provato a farlo e a chiedere la stessa trasparenza quando abbiamo potuto anche attraverso i nostri mezzi di informazione, grazie al Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale Fabiano Amati per essere stato con noi. Grazie a voi, buonasera, grazie. Noi proseguiamo invece con le notizie del nostro telegiornale, andiamo a vedere un po' qual è la situazione proprio delle terapie intensive, in particolare la situazione negli ospedali e l'allarme che arriva da Antonio Amendola, Presidente regionale della Royemac, l'Associazione degli Anestesisti e Rianimatori. Tra dieci giorni in Puglia rischiamo di avere ospedali al collasso e medici costretti a scegliere chi salvare e chi no, stiamo andando a sbattere verso una crescita esponenziale che peraltro era ampiamente prevista. Negli ultimi giorni la Regione ha fatto registrare il record di quasi 9 mila nuovi postitivi a cui è coincisa tra l'altro una crescita, seppur ridotta, dei ricoveri, in particolare nei reparti di terapia intensiva dove è stata superata la soglia critica di occupazione di posti letto fissata al 10%. Parliamo invece di lavoratori sempre legati al periodo Covid, una protesta che stava per partire, c'era lo stato di agitazione che era stato dichiarato dai sindacati per quanto riguarda i lavoratori dell'AS di Bari, però oggi il tavolo di raffreddamento con la direzione sembra che si sia trovato un punto d'incontro. Tutti i dettagli nel servizio. Più di 15 milioni di straordinarie prestazioni aggiuntive pagati fino a luglio e poi sospesi. Il bonus Covid inizialmente, anche qui versato, per una percentuale che si aggira attorno al 65%, sono stati a lungo gli eroi della pandemia, ma oggi rivendicano ciò che era stato loro promesso. 2.500 lavoratori in tutta l'AS di Bari che attraverso i sindacati di funzione pubblica di CGL, CISL, Will e FIALS avevano dichiarato lo stato di agitazione preannunciando una manifestazione per il prossimo 2 febbraio, una possibilità che sembrerebbe scongiurata dopo il positivo esperimento del tavolo di raffreddamento con la direzione dell'ASL. Per quanto riguarda gli straordinari, per esempio, per le ore dedicate alla campagna vaccinale, le parti avrebbero trovato un accordo almeno fino al periodo di settembre, ricomprendendo anche quanto compiuto oltre i limiti contrattuali. Per ottobre, novembre e dicembre invece la discussione è rimandata a successivi tavoli di confronto. Altro tema è quello dei trasferimenti di personale. Non si può assistere in un momento come questo di assoluta emergenza a personale trasferito da reparti che presentano gravi carenze a servizi dove addirittura sono in esubero rispetto alla dotazione prevista dai fabbisogni, scrivevano pochi giorni fa in un comunicato ai sindacati. Sarà dinamata una circolare per ribadire l'importanza del rispetto delle regole, fermo restando che con l'esecutività dei nuovi incarichi per le direzioni generali a cascata saranno rinnovate anche quelle degli altri ruoli, riportando una situazione di ordine nella gestione dei rapporti di lavoro. I sindacati hanno ritenuto positivo l'esito dell'incontro e si sono impegnati a far rientrare lo stato di agitazione, ha spiegato Piero Albenzio di Fialz, una volta che saranno condivisi verbali definitivi dello stesso. Cambiamo argomento, il Governo centrale e il Parlamento hanno riposto attenzione al tema della salute mentale. Torniamo con l'informazione di Telebari e parliamo dell'avvertenza Palace, la task force non ha dato gli esiti sperati, l'assemblea sindacale all'interno dello storico hotel si trasforma in assemblea permanente, ci racconta tutto Serena Russo. La data di rilascio dell'immobile è stata spostata di 48 ore, ma le risposte che dovevano arrivare non sono arrivate. Nessun cenno sul futuro della storica struttura, nessuna certezza sul destino degli 88 dipendenti ed è così che l'assemblea sindacale, convocata in occasione della riunione con la task force regionale per conoscere il futuro del Palazzo Hotel, si trasforma in un'assemblea permanente. In altre parole, la struttura è ora occupata. Se usciamo dall'immobile e non avremo la stessa forza, tuonano i sindacati, che rivolgendosi ai lavoratori parlano adesso di lotta che va combattuta insieme. È il momento dunque di organizzare i turni e assicurare i cambi all'interno dell'hotel e dovrà essere costantemente assicurata la presenza di almeno un gruppo. E se non si chiarisce qual è il destino di questa struttura in prospettiva, noi non possiamo fare alcun tipo di ragionamento di tenuto occupazionale. Senza questo tipo di risposta noi non possiamo garantire a questi lavoratori alcun futuro occupazionale. Noi stiamo terminando proprio in questi momenti l'assemblea sindacale retribuita dei lavoratori che siamo costretti a trasformare in assemblea permanente perché abbiamo bisogno di certezze e non di vaghi ragionamenti su quale può essere il destino di questa struttura. Abbiamo chiesto la presenza della proprietà nella persona diretta del ex sindaco di Bari, Simone Di Cania Brescia, perché abbiamo la necessità di capire quest'albergo dopo 65 anni di attività che cosa faranno da domani in poi su questa struttura. I lavoratori non hanno responsabilità, non c'è una crisi economica di questa struttura, c'è stato un contenzioso tra due soggetti privati e chi ne sta pagando purtroppo le conseguenze sono i lavoratori. Noi a questo non ci stiamo e da oggi saremo in assemblea permanente. Prosegue intanto il via vai dei traslocatori, sedie, specchi, tavoli, materassi, quadri, tappeti. È tutto imballato oramai, gli arredi dello storico hotel che negli anni ha ospitato illustri personalità giaceranno presto in un deposito e chissà per quanto. È il momento del comiato, l'ultimo giro nell'albergo, ha il sapore dell'incertezza e della tristezza. Nella terrazza Miorà il ristorante panoramico ormai svuotato di ogni arredo si intuisce appena la bellezza di un tempo. È tutto numerato, le ultime superlettili sono pronte per essere portate via. Così le cucine, le stanze, lo sfarzo del passato è come l'eco che si avverte nei corridoi. E poi l'ultima tappa del viaggio, la suite che ospitò per tre mesi l'attrice Liz Taylor è oramai irriconoscibile. Due bagni, una cabina armadio, due grandi stanze e persino un cucinino. All'interno non c'è più nulla, si fa fatica persino a riconoscerla. E tra le grandi incognite di questa storia, il futuro di tutto l'albergo. Voci si rincorrono su un imminente cambio di destinazione. La proprietà sul punto non ha ancora chiarito nulla. E parliamo invece di investimenti, investimenti che saranno fatti di quei prossimi anni ma su cui la burocrazia rischia di mettere dei seri, lentamente seri problemi che rallenterebbero la realizzazione di grandi opere strutturali. Ne ha parlato l'onorevole Rospi di Forza Italia. Allora ascoltiamo le sue parole. 6 su 8 delle opere commissariate in Puglia presentano criticità di diversa natura per lo più riconducibile alla complessità delle procedure all'ottenimento di provvedimenti di via o pareri afferenti al Ministero dei Beni Culturali difficoltà che ne rallentano la realizzazione e che considerata la rigidità dei vincoli europei sui tempi entro cui vanno spese le risorse del PNRR rischiano di tornare indietro ad affermarlo il deputato di Forza Italia Gianluca Rospi autore nel 2018 del decreto per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova commentando il rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle opere commissariate trasmesso al Parlamento dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili nel rapporto vengono segnalate criticità di vario genere sulla tratta Termoli-Lesina per il completamento del raddoppio Pescarabari sulla tratta Ferroviaria Napoli-Bari sull'adeguamento del tratto tra Foggia e San Severo e della tangenziale ovest di Foggia della statale 16 Adriatica sull'adeguamento della statale 89 Garganica sulla statale 275 Maglie Santa Maria di Leuca e sul parco della Giustizia di Bari le uniche opere che invece sembrano viaggiare senza intoppi sono la direttrice ferroviaria Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e il comando dei Vigili del Fuoco della Batta-Barletta abbiamo visto che la sola nomina dei commissari non serve a sbloccare le opere occorre innanzitutto e una volta per tutte realizzare quell'opera di semplificazione della macchina dello Stato partendo da quei modelli che hanno funzionato come il decreto Genova che ha permesso la ricostruzione del ponte a Genova in soli due anni e adesso invece torniamo a collegarci con il nostro sito web www.telebari.it per altre notizie dalla città Italo Lo scempio senza limiti così il comitato di quartiere Torriammare rilancia sui social la denuncia di un cittadino relativa a un grosso morale apparso nelle scorse ore su una scogliera non lontano dal tratto del litorale barese chiamato le due colonne a scattare la foto uno dei volontari del gruppo Retake che chiede di provare a individuare questo vandalo e fare in modo che vada a pulire questo scempio che ricorda quanto successo in Sicilia a scala dei turchi il riferimento è alla maestosa scogliera bianca di Real Monte in provincia di Agrigento imbrattata con vernice rossa da due vandali subito rintracciati dai carabinieri potrà avvalersi delle telecamere di videosorveglianza della zona invece chi vorrà indagare su un altro episodio di vandalismo verificatosi a santo spirito sul lungomare Cristoforo Colombo qualcuno si è divertito a posizionare una fioriera sulla cipista ciclabile la fioriera peraltro rotta è stata messa di traverso rispetto al senso di marcia con il chiaro intento di sbarrare la strada a chi ne usufruisce con l'aggravante di averlo fatto subito dopo una curva rendendo quel tratto altamente pericoloso bene con questo quindi è tutto per oggi Roberto a te buona serata grazie Italo e cambiamo completamente argomento anche quest'anno la città di Bari ha festeggiato il compleanno di Niccolò Piccini con degli eventi dedicati al grande musicista e compositore barese vediamo come è andata nel servizio di Maria Alessia Sforza Buon compleanno Niccolò Piccini e così per il terzo anno consecutivo Bari è tornata a festeggiare il compleanno di Niccolò Piccini un evento ideato dalla consigliera Micaela Poparella in collaborazione con l'assessore alle culture Ines Pierucci per rendere omaggio al grande musicista e compositore nato a Bari nel 1728 e nonostante la pandemia tante le iniziative organizzate dalla delegazione FAI di Bari e il museo civico dall'allestimento della vetrina della libreria La Feltrinelli tutta dedicata a Niccolò Piccini con il QR code per scoprire il video tour dedicato alla figura del compositore ai luoghi picciniani più significativi realizzata dall'associazione Forme di Terre fino all'illuminazione artistica della statua di Niccolò Piccini con brani tratti dall'opera Buffa La Cecchina l'illuminazione della statua che è stato il momento clou ieri sera l'illuminazione della statua del maestro in corso Vittorio Emanuele che ha attirato un sacco di gente con la musica tratta dalla Cecchina quindi un'atmosfera abbiamo creato proprio una bellissima atmosfera per ricordare il maestro per far conoscere ci stiamo impegnando per far conoscere la storia di Niccolò Piccini e per celebrare il 294esimo compleanno dell'illustre concittadino tra le vie di Barivecchia vicino al museo civico spunta il murale realizzato dall'artista barlettano Rizek ieri sera è stato scoperto è stato mostrato al pubblico l'opera murale realizzata dall'artista di barletta Chris Rizek devo dire che quest'opera dedicata a Piccini ha riscosso davvero tantissimo successo è la prima dedicata al nostro musicista e compositore quindi è stata davvero una bella sorpresa e un grande regalo da parte sua e adesso cambiamo argomento sono iniziate questa mattina le indagini sul terzo lotto della discarica Martucci per la realizzazione del primo dei quattro piezometri previsti ci aggiorna Francesco Russo sono in corso da questa mattina le attività di indagini dirette sul terzo lotto della discarica Martucci tra Mola e Conversano con l'avvio delle operazioni di realizzazione del primo dei quattro piezometri la cui localizzazione è condivisa con Arpa Puglia e che tiene conto dei risultati delle indagini geognostiche completate lo scorso novembre le operazioni che secondo il cronoprogramma termineranno nel mese di marzo arrivano all'indomani della riunione convocata venerdì scorso dalla sezione rifiuti e bonifiche della regione a cui hanno preso parte i sindaci di Mola Giuseppe Colonna e di Conversano Giuseppe Lovascio che hanno ribadito la richiesta di conoscere i siti della provincia di Bari identificati come idonei nel 2014 per ospitare una discarica al fine di proseguire con i primi cittadini della città metropolitana di Bari e con l'Ager il confronto sull'individuazione di un sito alternativo a Martucci una delle opzioni del piano regionale dei rifiuti approvato nel dicembre scorso dal Consiglio regionale nonché di ricevere i dati aggiornati dal registro tumori e che sia avviata un'indagine epidemiologica sui territori coinvolti dalla discarica il prossimo appuntamento a regione è previsto per il 25 gennaio alle 15 per avviare il percorso di definizione del cronoprogramma riguardante l'eventuale integrazione delle attività investigative sul terzo lotto l'attivazione delle misure di prevenzione ai sensi dell'articolo 240 del testo unico ambientale l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alla messa in sicurezza e chiusura definitiva della discarica a Martucci che resta prioritaria per la tutela dei cittadini e le conseguenti attività gestionali nonché il piano di ripristino ambientale e le annesse opere di riqualificazione e questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale dopo questo spazio di informazione ci sarà invece il consueto appuntamento con il Chiama De Caro e invece per quanto riguarda l'informazione è tutto buona serata a tutti un ben trovati da Luca Pace di Trebi Meteo anche nella giornata di martedì avremo il dominio dell'anticiclone sul nostro paese ma in verità vedete la struttura anticiclonica domina la scena su gran parte dell'Europa garantendo quindi assoluta stabilità nel dettaglio per quanto riguarda la nuvolosità tesa sull'Italia cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni del centro nord residua nuvolosità solamente sulle estreme regioni meridionali ma senza alcun tipo di precipitazioni in definitiva quindi ecco la previsione per la giornata di martedì al centro nord come detto cieli sereni o poco nuvolosi qualche foschia o banco di nebbia tra notte e primo mattino sulla pianura padana centro orientale nelle vallate interne del centro da segnalare inoltre le temperature che nei valori massimi risulteranno ancora una volta miti e gradevoli vedete toccheremo anche punte di 14-15 gradi sulle regioni centro meridionali con questo è tutto ulteriori dettagli però vi aspettano come sempre sulla nostra app gratuita trebi meteo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti